Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per venerdì 23 giugno. Correnti atlantiche più fresche portano alcune temporali su Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Temperature in calo al centro nord di Sardegna, dove le massime saranno comprese tra 28 e 31 gradi, ossia caldo moderato. Caldo intenso invece ancora sulle regioni meridionali, dove le temperature massime saranno tra 34 e 38 gradi su Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia.